buongiorno gli amici spiegare come benzina quello diesel diesel normale quello diesel plus si chiama italiano diesel plus diesel plus vuol dire quello più migliore quello diesel normale allora quella benzina benzina normale 95 otani vuol dire questa benzina normale allora questo benzina 100 otani a 100 otani più più migliore questo allora in vittore va bene anche quello benzina benzina super 95 riesco a dare un po un po di benzina per amici quando arriva benzinaio tu vedere tua macchina a gasolio non prendi benzina perché quello buco piccolo benzina quello grosso diesel non entri macchina perché macchina nuovo non mi entri allora più chiaro di spiegare anche sri lanka una sri lanchese si sono un punto di commento di mereta a gasolio che il che ci sono stati e per il nostro è stato in questo video ho visto se non ho fatto un'epoca per Milano, ho fatto un video che mi ha pensato a vedere e ci sono i giorni che ci sono stati grazie a tutti i video che ci sono stati riconosciuti e ci sono i video che ci sono stati più riconosciuti